Siamo con Francesco Polimeni, responsabile marketing di prodotto moto. Mana segna una nuova tappa nelle due ruote, che rompe con la tradizione. Come si inserisce il progetto Mana nel nuovo stile Aprilia? Il 2007 rappresenta per certi versi l'anno della svolta, del cambiamento, dell'inizio del nuovo cammino di Aprilia e di un nuovo stile di Aprilia. Aprilia è un'azienda, un marchio che affonda le proprie radici in una storia fatta di successi sportivi, di innovazione, ma anche di capacità di sapere ascoltare il mercato e percorrere i tempi. E questa è un po' la situazione che il mercato ci mostra oggi. Il mercato è diventato sempre più aggressivo, sempre più competitivo, per cui un approccio ai limiti dell'autoreferenzialità, ossia di limitarsi, grazie alle competenze acquisite negli anni, a produrre, a progettare dei prodotti in leader assoluto in termini di prestazioni, non è più sufficiente. È fondamentale, oggi come oggi, apririre le orecchie al mercato, cominciare ad ascoltare un po' più a fondo quello che il cliente ci dice, le sue esigenze, i suoi bisogni, dichiarati e alletenti. Dobbiamo anche parlare una lingua differente, che poi tanto nuova non è. Nel senso, il mondo delle moto d'alte prestazioni si sta sempre più rinchiudendo nei circuiti, vuoi per queste insicurezza, vuoi per normative, controlli con autovelox sulle strade. Ma questo non vuol dire che l'utente medio in realtà non sia alla ricerca di prestazioni in termini di emozioni, emozioni, esperienze di guida intense, ma non esasperate. Questo quindi è il linguaggio della nuova Aprilia, che Aprilia vuole parlare, facendo leva sulle forti competenze in termini di sviluppo di moto d'alte prestazioni, coglie il bisogno dei clienti e soddisfarli nei pochi momenti che hanno per dedicare all'utilizzo della moto per massimizzare il divertimento e lo svago dell'esperienza di guida, ogni qualvolta si inforcono nelle nostre moto. Ma le shiver quindi nascono esattamente con questo scopo, scopo di rendere oggetti più fruibili, più accessibili, se vogliamo per certi versi anche un po' più facile da utilizzare, ma sicuramente che possono essere un condensato, un concentrato di divertimento e di emozioni nella vita. La filosofia quindi che guida lo sviluppo di questi nuovi prodotti, del nuovo stile Aprilia, è quello che non sono più necessarie potenze sui colori 100 cavalli, non è più necessario avere una tutta in pelle e la capacità di governare un manubre di 200 toni dall'ora per divertirsi e per avere dei momenti di svago. Questo chiaramente senza rinnegare comunque quella che è la natura delle corsa e delle prestazioni di Aprilia, che comunque rimarrà sempre con le IAS importanti del marchio. Le caratteristiche di Mana la rendono ideale rispetto alle moto tradizionali anche nell'utilizzo cittadino. Quali possono essere le varie tipologie di utilizzo di questo veicolo? Ed eccoci qui, dopo aver analizzato il mercato, parlato con gli utenti, ci siamo detti, ma alla fin fine chi lo dice che l'emozione, il divertimento di guida lo fa il provare una moto in circuito o il violare le leggi del codice della strada? In realtà ogni momento in sella o nelle nostre moto vuole essere un momento, un'esperienza sensoriale, emozionante, eccitante, divertente e gratificante. E Mana consente esattamente questo, grazie alle sue soluzioni intelligenti. Il vano serbatorio che è stato trasformato in un vano di carico, comodo dell'utilizzo cittadino, quotidiano. Il cambio sequenziale che consente la possibilità di avere una moto guidabile per il divertimento o in modalità automatica, in relax. E quindi già me lo immagino l'utente in sella alla Mana, me lo immagino che la mattina esce dal garage sulla sua moto, si mette nel traffico congestionato nelle nostre città e quindi mette il cambio in modalità automatica per avere una guida rilassante, senza stress, con la libertà di guardarsi intorno e godersi il tragitto fino al lavoro. Ma poi, come a un attimo di tempo, lo vedo sciogliere il nodo della cravatta, levare la giacca, mettere il giubbotto, saltare in sella e via, in modalità sequenziale, uscire dalla città e andare in collina a fare un po' di curva, un po' di pieghe per divertirsi. Mana è finalizzata a raggiungere un target specifico? Quale segmento andrete ad insediare? E quale cliente? Mana non andrà in un segmento, Mana nella realtà sarà il segmento. Nel senso che sul mercato non esistono prodotti confrontabili in termini di innovazione con Mana. Ci sono prodotti che possono essere confrontabili in termini di caratteristiche tecniche, di dimensione del disco freno, di potenza, di disco rendo. Ma quello che noi, uomini di marketing, definiamo il concept è assolutamente unico, assolutamente inconfrontabile con niente altro sul mercato. Ci siamo quindi resi conto che c'è un'ampia fascia di utenti che vuoi per variate condizioni, stili di vita, esigenze, necessità, si è trovato costretti a fare delle scelte. Nella migliore dell'ipotesi, avendo un'ampia disponibilità economica, è di gestire un parco moto, quindi la moto per il divertimento, lo scooter per andare in città a lavoro e la moto per il weekend. Non avendo questa disponibilità, a fare delle scelte di campo e dover quindi rinunciare a qualcosa. Mana ti consente esattamente di non rinunciare a nulla, in quanto incorpora tutte queste anime in una moto sola. Il motociclista può tranquillamente usarlo la mattina per andare in ufficio, senza lo stress di cambiare marcia, con la protettività garantita dagli accessori, senza il rischio di sporcarsi le scarpe utilizzando il cambio manuale, ma anche poi, sequenziale, come meglio preferisce, nel weekend caricare i bagagli, caricare la compagna, andare al mare, in montagna, divertirsi e godersi un momento di svago. Per questo pensiamo, soprattutto all'inizio, a un motociclista non di primo pelo in sella a questa moto, per il quale Mana possa essere l'opportunità di ritornare su una moto, non necessariamente uscito dal mondo delle due ruote. A un cliente che prediligga le scelte furbe, funzionali, ma anche il divertimento, l'emozione di guida, che sceglie le risoluzioni intelligenti, che non necessariamente voglia essere esibizionista, sebbene poi sotto sotto voglia mostrare che sceglie lo stato dell'arte e la tecnologia disponibile sul mercato. E poi non dimentichiamo che Mana sotto sotto è una moto un po' sorniona, può essere docile, può essere adomesticata, ma all'occorrenza sa essere una vera brucia semafori. Questi saranno i primi tenti in sella alla Mana. Seguirà una fascia di pubblico più ampia e sicuramente meno esperta, che vedrà in mano un oggetto più rassicurante, sicuro, ma comodo, confortevole, ma anche emozionante da guidare. I visitatori di Mana Blog dimostrano interesse nelle specifiche tecniche di Mana. Qual è il suo peso? Per le caratteristiche tecniche credo sia doveroso lasciare la parola tecnici. Quello che per il momento posso dirvi è che le rilevazioni fatte su un moto di preserie, quindi non ancora completamente definitive, ma quasi, parlano di una massa intorno ai 194-195 kg a secco. Ma quello che dal mio punto di vista è più rilevante nell'ottica dell'utente è il parere dei nostri collaudatori. Posso assicurarvi che tutti quanti i collaudatori, quando si fa il primo giro intorno alla moto, la prima volta, prima di salirci, si sono mostrati un po' scettici sulle masse, sul peso, sulle caratteristiche di maneggevolezza di questa moto. Ma vi garantisco che finito questo giro, il moto, si sono tutti quanti dovuti ricredere sulle caratteristiche di Mana. E tutti quanti hanno detto, Mana è una vera Aprilia, che risponde alle caratteristiche di maneggevolezza che sono uno degli assi portanti di tutte le moto di Aprilia. Qualche anticipazione sul prezzo? Il prezzo sarà assolutamente coerente con il livello di innovazione rappresentato da Mana e con la caratteristica della componentistica di assoluto primo livello. Sui vari mercati usciderà tra i 9.900 e i 9.500 euro. Il colore di questa Mana non è mai stato visto? Beh, i colore di Mana sono in definizione proprio in questi giorni. Vediamo che ci diranno gli utenti di Mana Blog.